eccoci eccoci qua abbiamo sentito il tuo brano ce ne sarebbero tanti altri Salvatore da sentire però volevo dire che Simone tu poi hai anche cantato in questo album eh purtroppo che poi non è che ho cantato io allora ho partecipato a quello insieme a Crimi al brano racconto d'inverno che è nato come omaggio a Fabrizio De André naturalmente io non canto recito, ho fatto scuola di teatro, tanti anni fa e quindi mi sono Andrea Crimi appunto l'interprete principale del disco, mi ha voluto insieme a lui in questo brano e io ho accettato malincuore, no, nel senso mi sono divertito è stato veramente molto bello la canzone è bellissima, in costume su YouTube cambiamo per un secondo tono Simone perché tu non sei solo scrittore, giornalista parleremo anche di quello ma sei stato uno dei concorrenti di Pechino Express 7 in coppia con la tua migliore amica che tutti noi conosciamo e amiamo follemente Tina Cipollari formavate la coppia degli spostati che rapporto hai con Tina? com'è andato Pechino Express? Beh, io e Tina siamo sempre molto vicini appunto alla mia migliore amica ci sentiamo tutti i giorni abbiamo due vite molto diverse perché lei è una stella della TV e io sono uno scrittore un autore ogni tanto anche un opinionista televisivo Beh, devo dire che comunque non è non è da tutti Simone avere una migliore amica così ma anche essere come te scrittore, autore opinionista insomma direi che dovremmo dirlo più spesso in giro no, beh è stata un'avventura quando c'è del merito è stata un'avventura bellissima che rifaremmo entrambi parlo per me ma posso parlare anche per Tina che ci ha dato tantissimo dal punto di vista intanto emozionale poi anche personale perché nonostante siamo un po' insimbiosi io e lei però questa avventura ci ha veramente legato ancora di più perché quando si spegnevano le telecamere rimanevamo noi due in queste case con queste persone sconosciute e ci siamo vissuti ancora di più e legati appunto ancora di più spesso mi ricordo che Tina ha un carattere molto molto la conosciamo molto diretto ma infatti guarda noi litighiamo spesso eh ti dico la verità litighiamo spesso anche fuori dalle dalle telecamere però meno male che non hanno mandato in onda a me quando litigavo io con lei ma scusa Simone ma Tina è come nella nella realtà nella vita normali tutti i giorni è come la vediamo in tv esattamente uguale guarda posso dire una cosa perché racchiude un po' tutto Tina è una donna vera e quindi ciò che vedete è quello che è una donna vera e si propone per quello appunto che è e noi la amiamo proprio per questo apprezzatissimo ormai da tanti anni e come si può non amare assolutamente tra l'altro anche lei ha appena scritto un libro Simone si è simbiosi anche Piume di Struzzo un libro edito da Mondadori bellissimo e anzi ve lo consiglio ecco oggi facciamo i consigli per gli acquisti facciamo i consigli tanto tra poco è Natale quindi dobbiamo fare tutti i regali a tante persone regalatevi guarda il libro il libro di Tina è un libro veramente molto bello in cui lei si svela io l'ho letto appena uscito lo sono andato proprio a comprare in Mondadori il 25 ottobre non è neanche un mese è anche buono nella classifica appunto anche di Amazon è un libro dove lei un libro inedito dove c'è una Tina inedita perché racconta quella che è la sua infanzia la sua adolescenza e non certo il suo percorso televisivo molto veramente molto bello noi la aspetteremo molto volentieri qualora volesse Tina per raccontare naturalmente di questo suo debutto letterario quindi Simone metti una buona parola intercedi immagino che lì ci sia un uffici stampa e manager molto molto attenti al suo percorso Simone tu l'hai proposta come opinionista del grande fratello VIP noi ce la vedremo benissimo tra l'altro al posto di Orietta beh Tina guarda quando me lo chiedono all'interno delle mie rubriche quando quando mi chiedono insomma mi fanno delle domande io Tina la vedrei benissimo ovunque ha un ruolo però che è casa sua uomini e donne e quindi so che è molto assorbita da questo perché naturalmente lì c'è un grande affare perché lei li segue tutto non ha copioni per carità però ecco io dove la metti è una donna che dove la metti sta assolutamente ma anche tu comunque mi sembri una persona molto molto diretta Simone che non le mandi a dire infatti ad esempio hai anche una rubrica su Eva 3000 in cui massacri un po' tutti Simone com'è il tuo ruolo così diretto? no Eva 3000 no non ho più la rubrica su Eva sono per quanto riguardano i settimanali sono sul quindicinale ora e sì come rubrica e poi sul mensile bellissimo che si chiama Art e Glamour ok fatto bene allora a correggerci e tu sei l'irriverente sì l'irriverente sì che adesso tengo un po' a bada perché sennò poi diventa problematica no adesso però ci raro fuori perché dobbiamo parlare sparlare di tutto quello che accade al grande fratello Vip cominciamo subito Simone ti permetti volevo concludere dici volevo concludere se è possibile dopo dopo concluderemo con la tua con il libro con il cd anzi con l'album vogliamo un attimo parlare del grande fratello così diventi irriverente per qualche minuto va bene Antonio e Oriana ti piacciono ti convincono notte di passione proprio qualche giorno fa cosa ne pensi ma guarda io ti posso dire una cosa al di là di quello che piace o non piace a me io ho avuto modo di apprezzare moltissimo i nuovi ingressi all'interno della casa più spiata d'Italia tra cui il nuovo concorrente il covid perché almeno ce n'è un po' liberato di alcuni per rimanere in punta di forchetta alcuni degli inquilini che li hanno diciamo messi in quarantena chi è che sei felice che è andato dall'altra parte chi è che sei felice sia in isolamento ma un po' tutti dai il covid sta creando delle nuove dinamiche poi in tv non se ne parlava più e quindi vedi siccome non se ne parlava più ho avuto la finale idea di entrare a spada tratta all'interno del grande fratello oh finalmente non ho apprezzato vi dico la verità questa edizione è un po' particolare perché è iniziata con tutto quel quel polverone sul Marco e non mi è assolutamente piaciuto quello che è successo all'inizio insomma i concorrenti sono stati abbastanza spietati poi il pubblico che è padrone li ha naturalmente eliminati anche se avrei preferito che non si il grande fratello non si lavasse le mani ecco come fa Ponzio Pilato con il pubblico è stata un po' una fitta con i mondiali di calcio quindi torniamo a un cerchio che si chiude abbiamo parlato inizialmente di mondiali di calcio e la FIFA che si è un po' lavata le mani quando ci sono questi problemi sociali mi è piaciuta perché quando dicono il pubblico è sovrano ma non è il pubblico che comunque li sceglie i concorrenti perché se no se li facciamo scegliere al pubblico i concorrenti io forse avrei fatto tutti i reality della terra e lo dico ti candidi quindi dove vorresti andare? mi sono già candidato mi sono già candidato perché a me forse sono troppo sono troppo sarei troppo sei troppo per i verenti no Simone Simone dobbiamo chiudere puoi dirci una cosa velocissima sul tuo album velocissimissima sì stavo dicendo ecco è un'operazione collettiva abbiamo visto il volevo ringraziare Laura Bono che ha dato anche lei voce al disco Andrea Candeo che è l'attore protagonista di tutti i videoclip in canzone l'abbiamo visto prima nell'episodio di Andante che avete mandato in onda Francesca Lovatelli che è l'ufficio stampa Diego Lanuto che è l'addetto stampa insomma tutto quello che è la famiglia modo agency siamo una grande famiglia e poi Alessandro Vinci che è è un giovane cantante che ha dato insieme a Crimi original brano proprio che prende poi il titolo della raccolta che è l'amore dietro ogni cosa e quindi ecco ti ringrazio ricordiamolo tra qualche giorno ciao Simone grazie grazie per aver stato con noi ciao grazie grazie ciao 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 e noi andiamo in pubblicità perché abbiamo quasi concluso ma anche veramente tra poco cantiamo esatto tra poco cantiamo quindi a tra poco a tra poco e noi andiamo in pubblicità